Il governatore della campagna Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì in cui ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione contagi e vaccinazioni ha annunciato la campagna darà una tessera di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo. Poi mostrando il prototipo sul retro c'è un chip ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema, al ristorante con più tranquillità avendo la certificazione che sono stati vaccinati. Servirà, sottolinea De Luca, per dare prova dell'avvenuta vaccinazione. Il presidente della campagna è stato il primo politico italiano a vaccinarsi e a riguardo ha dichiarato. Il mio è stato un gesto simbolico, utile a dare coraggio e fiducia per dimostrare che il vaccino è sicuro, però in Italia non manca mai chi è pronto a fare sciacallaggio e demagogia. De Luca sottolinea che il suo gesto serviva anche a contrastare la nuova ondata dei no-vax, il personale medico non disponibile, le false notizie sulla pericolosità del vaccino. C'è chi sostiene infatti che il covid non esista e chi è contro il vaccino poiché non si conoscono ancora le conseguenze che porterà. Tante le dichiarazioni di scetticismo e critiche, molti gruppi di opposizione al riguardo, ma la campagna di vaccinazione prosegue e sarà presto estesa agli anziani, alle categorie a rischio e alle persone impegnate nei servizi essenziali. Dai dati del sito del governo sui vaccini anti-covid risulta che la Campania è la prima regione d'Italia, insieme alla Toscana, per la percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate. Quello che facciamo, ha aggiunto ancora De Luca, lo facciamo avendo 15.000 dipendenti nella sanità in meno rispetto per esempio al Veneto, che ha un milione di abitanti, meno di noi. All'Emilia Romagna, al Piemonte, la mattina dell'8 gennaio sono partite anche le somministrazioni di vaccino nel Vaccine Center dell'Asl Napoli 1, centro alla mostra d'Olteremare. Dobbiamo fare 4.200.000 vaccini per avere un risultato apprezzabile, ha commentato il governatore della Campania. Siccome con i vaccini attuali dobbiamo fare il richiamo, dobbiamo ancora fare 8.400.000 vaccini. Uno sforzo gigantesco che richiederà una capacità di organizzazione assoluta, nessuna distrazione. Se facciamo 20.000 vaccini al giorno, arriviamo a 600.000 vaccini al mese. Se funziona tutto alla perfezione, arriviamo a novembre e dicembre per completare la campagna di vaccinazione. La Campania è inoltre anche la prima regione ad aver approvato il piano di vaccinazione richiesto dalla Fission Anfas Campania. Nelle scorse settimane, infatti, queste ultime avevano chiesto all'unità di crisi della regione, anche con il sostegno del Forum del Terzo Settore Campano, di inserire le persone con disabilità e gli operatori residenti nelle RSA e dei centri diurni tra le priorità per la somministrazione del vaccino anti-covid. Tale richiesta è stata accolta dal direttore della Sanità regionale, Antonio Postiglione, e dal dottor Trama della Direzione Generale per la tutela della salute. Nei prossimi giorni, quindi, si provvederà alla vaccinazione delle persone con disabilità e degli operatori residenti nelle RSA e dei centri diurni. Siamo molto ottimisti per quanto riguarda la procedura messa in campo dalla regione che ha tenuto conto delle nostre indicazioni, ha detto il Presidente. Ci auguriamo che entro la primavera saranno vaccinate tutte le persone con disabilità.